chi è stefano de martino il nuovo conduttore di affari tuoi e ex stefano de martino la nuova stella di affari tuoi stefano de martino ha fatto parlare di sé come nuovo conduttore del popolare game show italiano affari tuoi il suo ritorno in televisione è stato atteso con grande curiosità e le aspettative del pubblico sono alte il carmante conduttore che è già diventato famoso grazie al suo ruolo precedente in amici di maria de filippi ha consolidato la sua posizione nel mondo dell'intrattenimento negli ultimi anni vor sua notorietà nel settore dell'intrattenimento de martino ha avuto una carriera multiforme caratterizzata da varie apparizioni in diversi programmi televisivi si riporta che non solo come presentatore ma anche come ballerino e attore possieda un notevole talento questa versatilità potrebbe aiutarlo a dare una nuova direzione allo show e apportare un'aria fresca nel collaudato concetto di affari tuoi viele fans erinnern sich an seine frühen jahre in der italienischen tv-landschaft und sehen in seiner rückkehr eine spannende entwicklung die zuschauer erwarten dass er mit seiner freundlichen art und seinem talent für improvisation dazu beiträgt die show lebendiger und unterhaltsamer zu gestalten es wird vermutet dass sein charisma eine königsdisziplin im umgang mit verschiedenen arten von kandidaten und deren geschichten sein könnte die das herzstück der sendung sind molti fan si ricordano dei suoi anni iniziali nel panorama televisivo italiano e vedono nel suo ritorno uno sviluppo interessante i telespettatori si aspettano che con il suo modo gentile e il suo talento per l'improvvisazione contribuisca a rendere lo spettacolo più vivace e divertente si sospetta che il suo carisma possa essere una disciplina regina nella gestione dei diversi tipi di concorrenti e delle loro storie noi ha scelto il quale off trasmissione de martino ha già dimostrato in passato di saper creare un'atmosfera che sia rilassante che emozionante in diverse interviste ha sottolineato quanto sia entusiasta per la nuova sfida ha accennato al fatto che intende introdurre elementi di gioco innovativi pur mantenendo la struttura classica dello show a cui il pubblico è così affezionato i produttori di affari tuoi si sono espressi in modo ottimista sulle capacità di de martino e sulla sua visione per lo show hanno sottolineato come la sua prospettiva fresca e il suo approccio coinvolgente contribuiranno a mantenere il programma rilevante nell'attuale panorama televisivo inoltre si prevede che la sua presenza possa aumentare gli ascolti il che è cruciale per il successo dello show nei social network de martino ha parlato del suo nuovo ruolo e ha condiviso il suo entusiasmo con i suoi follower ha parlato dell'eccitazione e delle sfide legate alla conduzione di un programma così prestigioso e si è impegnato a dare il massimo per mettere al centro sia il pubblico che i candidati il suo atteggiamento è percepito da molti come rinfrescante e motivante contribuendo a creare un'atmosfera positiva tra i suoi fan la prossima stagione di affari tuoi sarà quindi interamente dedicata a stefano de martino miti il suo impegno e la sua passione potrebbe essere proprio quell'elemento fresco di cui lo spettacolo ha bisogno per continuare a suscitare l'interesse del pubblico autore anita fache lunedì 2 settembre 24